Scuola Famiglia in gioco di squadra. È stato questo il titolo dell'incontro che si è tenuto a Cibeno domenica 11 settembre 2022 per i soci dell'Associazione Amici del Vallauri. Un momento di conoscenza e di ascolto reciproco all'inizio di un nuovo anno scolastico. Erano presenti insegnanti, genitori con i loro figli dell'istituto professionale e di altre scuole. Durante l'appuntamento ognuno ha portato il suo contributo, quel filo che serve a far rete creando una tessitura solida, perché sappiamo bene che solo insieme, in sinergia, riusciamo ad essere efficaci. È il villaggio che educa. Così Raffaele Facci, vicepresidente dell'Associazione, spiega le motivazioni dell'iniziativa. Noi vediamo di fare gioco di squadra, ragazzi, insegnanti, genitori per poter raggiungere dei risultati di benessere, di star bene assieme. La logica è la logica, la tessitura, scuola famiglia in questo gioco di squadra e da questo punto di vista mettendo assieme le nostre forze nell'ascolto l'un dell'altro senza diciamo debordare, ma facendo questa tessitura riusciamo ad essere propositivi nei confronti dei ragazzi che cercano questa nostra confluenza, questa nostra sinergia per loro, perché in pratica ce la richiedono. Pur essendo degli adolescenti che vogliono fare la loro strada, guardano sempre a che noi adulti siamo ancora in zona per poter lavorare assieme. Quando dico lavorare assieme dico ragazzi, adulti, ma anche anziani. Importante la figura degli anziani per gli adolescenti. Durante l'incontro si è presentato l'ultimo numero della rivista Ero Straniero, con ampi servizi dedicato proprio al lavoro nelle scuole svolte dai soci e dai collaboratori più stretti, Chiara Lugli e Emanuela Spigato. Non è mancato poi la presentazione dei due libri di Valeria Magri sui corsi genitori e la cura delle relazioni al Vallauri. Grande soddisfazione per il risultato di questo primo incontro da parte di tutti i partecipanti che sono riusciti a parlare in ascolto reciproco, la scoperta della reciprocità utile e bella.